ben tornati amici di granofgamers.it siamo oggi di fronte a un gioco che mi ha incuriosito perché io da ex giocatore come tutti penso call of duty battlefield quant'altro eccetera eccetera questo gioco free to play per pc non l'avevo mai visto questa è la grafica al momento sul mio pc andiamo a vedere che cosa è questo gioco black light retribution gioco della perfect world gli stessi di neverwinter chi mi ha seguito sull'altro canale sa che diciamo gli stessi sviluppatori di neverwinter equivale a dire il gioco per cui io mi sono chiuso per un bel po di tempo niente non vi dico nulla vi faccio soltanto vedere vecchi giocatori di code guardare questo gioco ora non tenete conto della bravura mia che io su pc ripeto ci provo sto continuando a trovare ma con il mouse per me è tosse questo è black light retribution guarda che si ho preso uno ho preso oh ragazzi siamo fortunati io faccio gioco di altro portavo questa partita perché che dirvi è un gioco free to play per una grafica del genere io sono un po malato per la grafica ecco ma ha fatto a sconta su un cecchino dalla sopra ci stanno i camperoni pure qua tranquilli quelli non mi mancano mai a proposito ve lo scusa per il precedente video perché c'era una distorsione della voce che faceva perdere diciamo di simpatia tra virgolette il gameplay che avevo fatto con torback alias matteo che saluto che stasera mi ha dato buca allora cercherò di vedere se riesco a beccare un'altra volta l'ho ripreso ecco ma riservato perciò sta ancora lì ah no è un'altra sta a terra respawn veloce ovviamente questo è più si orienta verso il play to win quindi per prendere cose belle dovrete eventualmente o conquistare giocando ma non sono le stesse armi che potreste avere un gioco normale pagateci perché avrete un fuciletto per cazzo e se non viene andata avanti ma che volete un gioco gratuito se vi piace perché non spendete i soldi eventualmente traverci qualcosa in più calcolando che i giochi adesso soprattutto per next gen stanno sulla settantina d'euro se i soldi ti regalano magari un po' insegnofateci l'ho intanto rotto con il mouse oh guarda vediamo se i bersagli quelli film fermi c'è una sensibilità trovate il mouse allucinante che vorrei forse regolare ma vorrei anche vedere se riesco a trovarmi bene nooo e che cazzo me stavo me stavo girando quindi ripeto chi guarda questo video non sta vedendo le gesta di uno che si sente un pro gamer assolutamente sto cercando di far vedere un gioco nuovo cioè un nuovo che magari la maggior parte di voi non conosce mi mancano i commenti di Matteo perché rallegrerebbero un tantinello questa massacra questa carneficina io sono entrato con questa arnetta che mi ammazza manco un pacifista poi ricordiamoci sta mira qua ma porca puttana questo cittino di merda sempre che è sopra va praticamente tutta la partita la faccio così però va bene è la prima volta che c'è giorno eh non pretendete niente non vedete questo che fucina però l'ho ammazzato non ho fatto l'assist e culo ricorda non succede che è successo ok facciamo guardare oh vabbè affanchino e mori e mori e vabbè ma se moro è una kill e una morte magari 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 è una kill e una morte ok fammi rinascere che ce l'avevo davanti che c'è sempre in queste campanze c'è qualcuno assurdo sì proprio sì sì ragazzi sbagli questo cazzo che rodella mor non importa ahah la rodella serve per selezione ovviamente le armi eccetera dammi un pad e poi vediamo ma ci vedo io che il mio ostino ha provato a diventare la vera che ho gente che c'è magna col pad guarda ma puoi sapere? ditemi voi l'ho preso? non l'ho preso? scrivetelo nei commenti a me sembrava di averlo preso soltanto che un uomo ha visto prima lui questa è un po' una mappa un po' del cazzo che ricorda un po' quella tipo dome vediamo un'altra arma? vediamo un po' ci dà conto forse mora in modo no? però è la grafica delle tre armi ok headshot due appello appello che cazzo mi ha ammazzato? ma che è questo dall'altra parte del muro? ma che è stato fuori? vabbè affancio ma ho preso una volta un altro fuggire no ma perchè non morite? perchè? ah è morto un'altra volta sto cazzo da sì 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 non ti appallassi sta gente l'umiliazione è grande ma purtroppo ripeto vabbè vabbè raga questi te sparano da dietro il container vabbè questo è quello che penso nel tuo gioco mi piace scherzo mi piace mi piace abbiamo perso ma dai com'è? come in squadra grazie al cazzo questo è il primo il secondo il terzo benissimo si raffanculo stronzo eh eh magari oh arrivo penultimo 3 kill 13 morti oh ma quando mi deciderò sistemare un attimino anche la sensibilità del mouse forse farebbe altra partita altro massaggio forse altra mappa tutto chi sparano di buchi io non so chi sparano da chi mire sparo buio vede la mia bravura con il mouse fin là che avuta un pochettino ma niente vediamo se qualcuno si andrà da mente come il prezzo si andrà da si andrà da si andrà da ma che ne dite che tanto di soppiare svegli e basta se andrà da ma io ho proposto a farvi vedere qualche ma un pochetto la mappa insomma qui c'è una glamour alcuna avrà messo una sorta di glamour qualcosa perché ma sono più livelli anche ripeto con tutti quelli diciamo che chi spende 70 euro me compreso ovviamente per giochi tipo call of duty non dico che sia la stessa cosa per carità prendete però le mie con le pinze però per carità però uno che fa una partita ogni tanto un giochetti una partitella qualcuno mi ha salvato il culo una partitella un gioco tranquillo un bet match qualcosa non serve spende 70 euro guardate preso guardate 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 un pochetto come sono le cose magari c'è sempre una pipa per carità però si sono nascosti porca puttana questo è arrivato per qua non posso guarda che roba guarda va cioè innova più sto gioco che Call of Duty nell'ultima nell'ultima uscita tipo di quella cagata dei ghost e di quello si tratta ragazzi non dico che questo è meglio però questo nel suo piccolo innova di più guarda che si è una donna scorsa ma quanti siamo rimasti? eh siamo tutti l'arte dove stanno non capisco questa è una spalassa e fra di loro io nero voi? allora mi fai tra l'arte con sto toto tutto dietro porca puttana ah no ma solo lui e che cazzo bastamo tre pacchiati a me sempre come al solito non vedessi c'era ma non è ancora più fatta che non fai ma zitti un po' zitti un po' un attimo zitti un attimo oddio si può giocare col padre io ti amo perfect world ah però vabbè oddio mazza forse dovrei velo sistema un attimo la sensibilità del bambino vabbè comunque ho vinto non ho fatto un cazzo ma ho vinto vabbè ottimo ho scoperto che se no fantastico vabbè ultimo 0-2 però ti d' Schulboss ha dei controlli come si va hey there Ci sono tutte le impostazioni veramente davanti Ok Altra mappa No cazzo regà però vabbè Vabbè che sto con il mouse elenco però scusate con il FUD quasi riprovo col mouse A me il fisiologico è più comodo Porca puttana Guarda un po' vaffanculo Guarda moltissimo Avete visto? Quasi è un'innovazione Il fisore per vedere una volta una tanking durante la partita dove ho messo il nemico Guarda si muore Capito? Con che te devo sparare? Non è anche ben livellato Eh cazzo di tanto capita Non è anche un'innovazione Guarda che i due Un'innovazione Guarda che i due Un'innovazione Un'innovazione Uno France Nooo costava a cambiare arlo Brita merda ok fai l'anno riuscita a capire anche come si può impostare l'armamento qui sta la spadaria non so ne fu io ma vaffanculo ce l'avevo da me eh vabbè ok Vai 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 Notate che sto parlando di meno che mi sta cominciando a roder cura Niente Ah però uno va ammazzare Ah Si va a tirare un aspo Si incastra un po' No se fra Eh scusate il pad fra La visuale è quella La visuale è quella che ti permette di vedere almeno almeno Ti permette di vedere al di là diciamo oltre i muri No Porca puttana Alla 3-8 dai Ripeto Ogni mappa Ogni partita che facciamo una mappa che non ho mai visto Chiaro Dade un po' di fiducia insomma Piano piano Non credo che siate tutti i navi imparati cazzo No Sì Sopra che selezionare è il fatto che il puntamento cioè se io faccio così vedete ecco vaffanculo insomma se io faccio così col puntamento rimane fisso lo devo ripremere mi viene naturale comunque io lo vedo via sul gioco